Ciao, sono Paolo Colombo, responsabile musicale e drammajor della Triugio Marching Band. La Triugio Marching Band ha sede nel paese di Triugio, che si trova in provincia di Montsebrianza, quindi siamo in Lombardia nel nord Italia. Vorrei innanzitutto ringraziare tutto lo staff della Destination Events per averci invitato a partecipare a questa bellissima iniziativa e inoltre vorrei ricordare che per noi è stato un onore, oltre che un grande piacere, partecipare all'edizione della Romparei del 2018. Colgo l'occasione per porgere da parte mia e di tutti i componenti della Triugio Marching Band i nostri più sentiti e occupi di Buon Natale. Grazie a tutti! Grazie a tutti!